Abbiamo creato da 6-7 mesi c'è un gruppo trasversale di welfare che sta portando, vuole portare, porterà al board, no porterà al board delle proposte concrete che possono andare, non lo so, ho sentito così nei corridoi perché io non partecipo, quindi arriva dalle persone, è trasversale, c'è la ragazza che lavora in linea, c'è la ragazza del marketing, c'è il ragazzo che lavora in amministrazione, quindi è proprio un gruppo trasversale dove proprio c'è un ascolto, un bacino di ascolto che porteranno, poi andremo a discutere anche con i sindacati, delle proposte che può essere dalla palestra, non sappiamo, per esempio una cosa di cui tutti si stupiscono, a me sembra una cosa così normale, io ogni trimestre faccio la plenaria con tutti i dipendenti dove spiego l'andamento, faccio vedere gli obiettivi erano questi, siamo arrivati qua, cosa faremo il prossimo trimestre, quali sono gli obiettivi in senso di risorse umane, piuttosto che economici, di marketing eccetera, do molta visibilità per me, è importante.